buongiorno e benvenuti in questo tour virtuale sono andrea dell'agenzia immobiliare casa i oggi sono a mancasale per presentarvi uno splendido negozio sito all'ingresso di mancasale molto comodo alla stazione mediopadana e nei pressi dell'imbocco dell'autostrada in questo momento ci troviamo in uno dei due ingressi ora ci troviamo nel corpo principale del negozio come potete vedere molto luminoso dotato di ampie vetrine al piano troviamo inoltre due uffici privati un triplo servizio è un doppio deposito sgabuzzino l'altezza del negozio è 3 metri 45 ma è stato fatto un controsoffitto per cui l'altezza totale con il controsoffitto sono tre metri ci troviamo ora in uno degli uffici dove è possibile ripristinare il secondo accesso che è stato chiuso l'immobile al piano misura 210 metri quadrati circa mentre al piano semi interrato con accesso separato anche dal dietro ma con accesso pure interno abbiamo un magazzino di circa 60 metri quadrati il negozio si trova fronte strada e gode per questo di un'ottima visibilità per questa attività molto indicate all'interno dell'immobile potrebbe essere attività di tipo bancario di tipo assicurativo una sala mostra e perché no una palestra o comunque una zona fitness riassumo un attimo le caratteristiche dell'immobile abbiamo un impianto di riscaldamento autonomo impianto di raffrescamento e cablaggio lan in tutto il negozio e i bagni hanno già la predisposizione per i disabili certo ci sono da fare alcuni piccoli aggiustamenti per l'attività ma il negozio si trova in ottimo stato vi ringrazio per essere stati con noi in questo tour virtuale e vi porgo i saluti migliori da casa i